salutatevi ciao sisma tre cose che non sopporti dell'altro è distratto è distratto e distratto è per marosa e maniaca di controllo la parolaccia che ripete più spesso lui non si può dire lei cazzo cosa cambieresti dell'altro non è meraviglioso così imitalo durante le dirette disco machine oh che bella la mia voce sì salutatevi ciao